Cara gente, cara gente, buonasera e benvenuti in questa nuova live. Questa sera torniamo su Armageddon. Buonasera Furious. Torniamo su Armageddon perché si prosegue come al solito con la campagna. Buonasera Tommy. Come la va? Beh, direi bene, dai. Direi bene. Si prosegue, che sto gioco è bello lungo, quindi ci accompagna per tanto tempo. Ma fortunatamente è un bel gioco. Adesso dobbiamo effettuare un contrattacco. E quindi vediamo dove ci porta. Come continuerà. Buonasera Cedric, buonasera a tutti. Io partirei immediatamente con iniziare a piazzare un po' di gente qua. Eh sì, è un peccato che alla fine ieri Warhammer Quest 2 sia finito in maniera così spiacevole. Vedremo poi il prossimo. Sono comunque speranzoso per Warhammer Quest Silver Tower. Vedremo. È un gioco ulteriormente un po' diverso, quindi... Non lo so. Ieri l'ho giusto avviato qualcosa come tipo 30 secondi solo per vedere che funzionasse tutto e che si vedesse. Quindi poi prossimo martedì lo iniziamo. Allora, voi vi miglioro a veterani e vi prendo un chimera. Voi invece avete già il chimera, ma vi miglioro a veterani. Tutti gli altri Ogryn sono così. Ok. Ora avremo un po' di veicoli da prendere, perché abbiamo due Vanquisher, un Lemarras normale, un Destroyer. Non abbiamo più nessun Punisher, il che è molto male. Dobbiamo assolutamente riprenderli. Mentre in pre-live ho visto che abbiamo 7 slot, quindi possiamo prendere un po' di roba. Ora, il nostro obiettivo è andare ad eliminare tutte le artiglierie importanti degli Orchi su questa mappa. L'obiettivo della missione ci dice, ci fornisce un suggerimento, ossia cerca le artiglierie vicino agli Esagoni Vittoria. Quindi direi che cercheremo di avvicinarci prima a questo, perché effettivamente ne abbiamo già una qua. Però poi andremo... Devo pensare un po' al percorso, perché... Allora, devo dire che va bene che ci sono tante strade. Le strade ci rendono più veloce il percorso, quindi direi che siamo un po' avvantaggiati. Possiamo abbastanza contare sul andare verso la distruzione di questa prima linea, piantarci sulla careggiata e poi andare a percorrere. E finita la mappa vediamo proprio che è strutturata appositamente per farci un po' girare così con le strade in modo da andare abbastanza rapidamente verso i vari punti. Gli unici che rimarranno un po' isolati, devo dire, sono questo, sicuro... Questo un bel po', un pochettino questo, perché è un po' centrale rispetto a dove finiscono le strade. E forse anche un pochettino questo qua. Ah, no, mannaggia, ma io non lo vedete il cursore? Perché non lo vedete? Aspettate un attimo. Io stavo indicando cose. Ah, forse perché sul PC... su questo PC non avevo impostato il cursore. Fatemi vedere. Perché ci penso solo adesso. Fai vedere, cattura il cursore. Eccolo qua. Pareva strano. Eccolo, perfetto. Dicevo! Dicevo. Questo qui. Questo qui è abbastanza isolato. Questo più o meno. E questo qua anche... Sia un lì lì. Sia un lì lì. Vediamo. Vediamo. Iniziamo partendo da qua. Poi ci penseremo... Ci penseremo dopo. Partiamo schierando. Allora, qui abbiamo subito una milizia qui che potremmo andare ad aiutare abbastanza rapidamente mettendo degli Ogryn qua posizionati. Così possiamo almeno andare subito contro le caccole. O contro questi... O contro questi Orchi. Vediamo un attimino come riescono a muoversi meglio. Altri... No! Non volevo mettere questo. Volevo mettere gli altri Ogryn qui. Perché gli Ogryn li voglio proprio mettere belli belli in prima linea. Perché vanno subito a schiantarsi contro... Contro questi... Questi piccoli... No, piccoli. Scusatemi. Grandi gruppi di fanteria. Abbiamo ancora una squadra di Ogryn che... Pianterai qua. Perché ho il timore che ci qua... Da qui arrivi qualcuno. Magari no, eh. Magari stanno in difensiva e ci aspettano. Però... Il fatto che mi metta pure una squadra alleata qua mi fa pensare e presumere che possa esserci una squadra nemica che potrebbero spuntare da queste zone conquistate dagli Orchi. L'artiglieria e dell'astra militare sono assolutamente seri, assolutamente. Poi qui mettiamo... Ecco, qui mettiamo una squadra di armi pesanti che magari riusciamo pure a lanciarla diretta contro il cannone. E ci fa un bel favore. Poi un Vanquisherino di qua. Uno di qui. Un Thundler lo mettiamo qua. Un altro Vanquisher. Magari di qui perché siamo un pochettino più scoperti. Ora andiamo a comprare cose. Ad esempio, un altro Ogri, secondo me. Per aumentare la Fantazza. Andrei, prima di dimenticarmi, subito i Punisher. Che finora si rivelano comunque sempre molto utili. Uno lo mettiamo qua. E un altro Punisher lo mettiamo qui. Ora abbiamo quattro slot, vero? Sì. E allora adesso pensiamo a come sfruttarle. Abbiamo dell'artiglieria, potenzialmente. Devo dire che col Basilisk Armageddon mi sono trovato un pochettino meglio. Quando lo bersagliano lo distruggono facilmente. Ma finché riesco a farlo stare un po' più indietro. O comunque in generale riesco a farlo durare. Devo dire che non è male come artiglieria. Quindi uno me lo prenderai. E' una succosa artiglieria, assolutamente. Poi. Ammetto che io vado bene o male su un po' sulle solite scelte. Perché se mi trovo bene. Un conto, vabbè, certe cose le provo, ovviamente. Però a un certo punto, se noto delle cose ampiamente più interessanti. Con cui mi trovo decisamente meglio nell'utilizzo. Io non vado poi molto lontano. Quindi, con tre slot. Ogryn quante ne abbiamo adesso? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non lo so, non mi sembrano mai abbastanza gli Ogryn. Perché sono davvero sempre molto utili. Una comando. Ecco cosa voglio. Un paio, anzi. Un paio di comando per il morale. Uh, spetta, upgradea. Perché voglio dare il trasporto anche a loro. Almeno ne abbiamo messo un po' così. Sarei tentato da prenderne una terza, eh. Da essere un po' più sicuro. Quindi io, devo dire che me ne metterò due così. Così una magari la piantiamo un po' più a destra. Nel caso ci dividiamo un po' di più. Sì, Armageddon è classificato come mondo formicaio. Poi ovviamente il fatto che ci siano, che ci sia un bel po' di guerra non ne cambia la classificazione. Però sì, è assolutamente classificato come mondo formicaio. Buonasera Barone e buonasera Tifovras. Benvenuti. E... Ok, direi che ho messo tutte le slot, vero? Zero. A posto. Ci siamo. Finiamo lo schieramento. Abbiamo 25 turni di limite. Direi che secondo me ce la caviamo abbastanza bene. Dipenderà un po' da cosa ci troveremo davanti, ma secondo me non è... non è male. Anzi, mi aspettavo un 20. Allo stato attuale della galassia, che succede su Armageddon? Attualmente Armageddon è un semi-mondo demoniaco. Perché siccome si è... a causa della grande fenditura, un'enorme presenza caos ha praticamente fatto diventare Armageddon a metà tra il mondo che se la continua a vedere con presenza di pelle verde, ma purtroppo adesso anche con una elevatissima presenza caotica e in particolare demoniaca. Stavano per evocare Angron. Era un rituale che poi, grazie all'intervento delle salamandre, è stato interrotto, ma lo stavano per fare. Sarei curioso di scoprire se effettivamente quando uscirà Angron sarà perché effettueranno un altro rituale proprio lì o semplicemente tornerà in altri modi diversi. Anche solo semplicemente sfruttando i poteri della grande fenditura che permettono a tanti demoni che non potevano tornare, di tornare comunque. Noi andiamo qua. Uh, allora, attenzione. Allora, loro mi vedono subito un carro delle caccole, che va bene. Se io vado qui... Sì, ci può stare. Loro riescono ad andare qua? Se faccio così... Sì, me lo sfondano anche abbastanza bene. Continuano a pestarsi di brutto. Assolutamente, assolutamente. Fare un attimino questa cosina. Voi... Uh, ecco, voi fate così. Così io qua vi quasi agniento. Vi mando già il morale a terra. E a voi vi esplodo e siete già fatti, già finiti. Molto bene. Qua il fronte va benissimo. La comando, effettivamente, la mandiamo subito qua. Così al prossimo turno gli Ogryn li rimetto al morale normale. Li tolgo quel brutto giallo. Vorrei poi toglierlo anche a questa squadra. Magari questi alleati, più riesco a farli durare, come al solito, meglio è. Mmm. Però... È un sottile equilibrio tra il farli durare e mandarli un po' avanti per sfruttarli. Devo trovare il coraggio di leggere la Saga della Bestia, ma tra l'Orus Eresi ha ancora da finire. Siege of Terra ha da iniziare e credo che lo leggerò tra dieci anni. Puoi comunque considerare il fatto che Saga della Bestia ha dei romanzi piuttosto corti. Non sono molto lunghi come libri. Sono dodici, ma sono dodici romanzi non esageratamente lunghi. Scorrono abbastanza veloce. Quindi... Rispetto, diciamo, ovviamente alla media lunghezza di un romanzo di Orus Eresi, che ha dei romanzi anche davvero molto lunghi, Saga della Bestia è stato scritto anche proprio per avere una lunghezza media minore. Allora, voi... Ah, ma questo cannone non vi può rispondere al fuoco. A posto. Bene. Se io faccio così... Allora, loro morirebbero. Voi quasi morireste, ma vi becchereste un po' di mazzate. Voi potreste annientare questo. Infliggere poco, infliggere un po', infliggere non molto. Mmm. Un attimino. Mettiamo questo. Non può? Può mai? Ah, forse perché è 1, 3. Se io faccio così? No? Non ho linea di vista, magari? Mannaggia. Vi terrò qua, allora. Provo a sentire, quindi, che sembri un astropote che però aveva il sogno di diventare un commissario freddo e calcolatore. Ma se riesco ad essere freddo e calcolatore negli strategici, devo dire che mi riesce comodo. Quindi, se riesco a mantenere la mente strategica mentre devo tenere d'occhio una live, meglio. Uno spirito macchina di un fucile laser può essere trasferito in un Requiem? No, generalmente uno spirito macchina è lo spirito macchina di quell'arma. Difficile dire poter trasferire lo spirito macchina di una semplice arma ad un'altra. È un concetto generalmente non contemplato. Ok. Come mai la vostra... Io non posso puntare... Ah, ecco, vedi. Adesso posso puntarti. Meglio. Un po' poco, eh, un po' poco. Fammi prima andare di qua. Devastati. Devastati due. Mi tengo qua perché sono nelle trincee, quindi mi trovo meglio. Però posso fare questo. Mettermi nelle trincee anche con il resto. Guardalo. Lo fe. Lo spirito macchina esiste davvero? Sì, perché... Allora, ovviamente l'Imperium lo vede mediamente con un tratto più spirituale. Ma effettivamente sono semplici gli intelligenze artificiali deboli. Cioè, come dire, l'intelligenza artificiale del frigorifero. Proprio per essere grezzi. Loro le vedono, lo vedono proprio come fosse uno spirito, ma in realtà è fondamentalmente il computer interno a qualsiasi dispositivo. Anche quella minimo intelligenza artificiale che ti dà magari il mirino, il mirino digitale, quel cavolo che è. E comunque quel poco di IA che per l'Imperium, in particolare per il Mechanicus, conta come lo spirito macchina. Il fatto che a volte ci siano dei carri armati. No, 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 no. Comunque qualsiasi arma ha un minimo di... Ha un minimo di intelligenza artificiale. Un pochettino, qualsiasi roba, ha quel minimino di spirito macchina. Anche solo per funzioni veramente terribilmente basilari. Non mi piace molto, però. Vabbè, dai, sì. Quasi. Immagino se potesse parlare. Sarebbe decisamente stupendo. Sì, esatto, quel piccolo... Anche solo l'essere un piccolo processore, comunque, è effettivamente uno spirito macchina. Figurati. Ok, cosa manca? Beh, perché no? E voi, voi, ma a sto punto potreste levarmi di torno questi qua. Non li uccidete del tutto, ma va bene comunque. Questo qui... Ora, adesso vi abbiamo tolti del tutto. Invece, invece... Qui. Stando a questo ragionamento, il mio PC ha uno spirito macchina. Assolutamente. Assolutamente. Se uno volesse dire per i canoni dell'Imperium, sì. Qualcuno che non abbiamo mosso? Abbiamo fatto tutto? In questo turno? Tutti i mossi? Tutti che hanno aperto il fuoco? Voi no, ma effettivamente perché ho detto che vi tengo qua? Boh, ci siamo, dai. Guarda, è lì che lo dicevo. È che qua ce n'era gente. Ma l'ho sentito. Aggressivi. Belli aggressivi, ma adesso noi risponderemo a modo. E il primo canone... E il primo canone l'abbiamo fatto saltare in aria. Mmh, mmh, mmh. Bene. E questo simpatico signore che ci ha un po' dato fastidio ai nostri cari Ogryn se ne va già a cagare. Mmh, mannaggia. Ma ti finisco io così? Quasi, quasi. Se faccio così... Non posso spararti. Se faccio così, nemmeno. Mmh. Eh no, certo, certo. Siamo un po' indietro. È normale. Tu hai già sparato, però un passettino te lo faccio fare. Ora, liberiamoci magari di questa gente qua. Mmh, no. Qua morireste malissimo. Però potreste... Però potreste... Però potreste... Questo Vanquisher potrebbe spostarsi. Voi fate così, voi fate così, voi si spostate qua. E così io posso attaccare dalla trincea, avere molta difesa ed eliminarvi. Il Punisher. Il Punisher. Allora, se si avvicina così, è molto bene. Se si avvicina così, va comunque bene. Gli facciamo comunque un gran male. L'imperatore Giorno dei Nostri chi sarebbe? Una persona che magari è completamente a noi ignota, che non si distingue da nessuno perché non vuole farsi distinguere. Dipende. Pare ci siano stati appunto momenti della storia in cui magari è stato qualche personaggio al torucato e altri in cui non è stato nessuno. Si è mosso nel corso del tempo facendo un po' quello che gli era utile. Ok, avrei potuto eliminare quelli, però questi già hanno un morale terribile. Mentre questi erano a piene forze, quindi meglio indebolire quelli. E questi invece li eliminiamo molto bene. Questi li possiamo far andare qua. Questi qui così. Uh, voi vedete un po' di gente qua. Però io vi mando il Punisher addosso. Il Punisher addosso. Nen' un po' di relax? Ah, boh, non lo so. Magari ci sarà stato il momento in cui si sarà anche rilassato. Non sembra il tipo, però magari un po' di vacanze se l'è fatta. E abbiamo eliminato. Io in realtà vorrei eliminare voi, perché voi siete particolarmente fastidiosi. Perché ogni volta che io vado contro qualcun altro, voi fate fuoco di reazione. Quindi, levatevi. Così vi prendereste un bel po' di danni. Ma se io sparo direttamente a voi siete morti. E vi ho levato. Questi simpatici alleati. Hmm, pensiamoci. Conviene magari metterli di qui. Potremmo eliminare una squadra. Potremmo eliminare questi qui. Oppure questi qua. Sì. Andata. Squadra artiglieria. Beh, anche loro potrebbero fare un po' di danni, eh. Dai. Andate qua. E ci siamo. Un pochettino avanti. Un pochettino avanti. Che almeno vi rimettete un po' in trincea. Avete una bella difesa. 50. Buono. Questo è molto buono. Anche se non posso spararvi. È comunque buono come posizione. E per il resto. Fatemi vedere se ho mancato qualcuno. Qui avremo due movimenti. Ma non li voglio sfruttare. Qui anche siamo messi decentemente. First Orcsig Battery Destroyed. Sì. Cioè, questa qua. Immagino. Ok. Me l'ha detto un po' in ritardo. Ma va bene. Magari perché gli ho raggiunto il punto lì. Quanta gente particolarmente arrabbiata. Penso dovrò ripristinare già un po' di truppe. Perché. Li vedo molto numerosi. Mi sa di quella missione in cui mi devo impegnare a ripristinare i numeri. E magari lo faccio proprio adesso. Perché. Altrimenti poi. Lo schieramento. Diventa poi molto lontano da. Da dove mi trovo. Quindi riprendiamo. Una di Ogryn. Cosa mi ha fatto esplodere? Allora aspetta. Non è un Punisher. Non è un Vanquisher. Mi ha fatto esplodere. Forse erano semplicemente gli alleati. No. Mi son perso. Cosa mi ha fatto esplodere? Vabbè. Non è poi terribilmente importante. Pensiamo prima ad ammazzare questi. E poi vediamo a fine turno. Cosa prendere. Ad esempio. Ad esempio. Allora. Voi potete. No. Potete niente. Indecisione. Indecisione. Ok. È un po' di roba. Gliela levo. Malamente. Vanno pure a morale. A morale no. Non siete morti? Questo mi dà molto fastidio. Devo dire. Così siete andati. A livello di esercito. Quanti soldati dispone in totale l'imperio? Letteralmente impossibile calcolarlo. Cioè. Sono miliardi e miliardi. Persparsi per un'intera galassia. Quindi è proprio. Ma è detto esplicitamente. Che nel senso. I cittadini. Gli eserciti. Sono letteralmente incalcolabili. Per quanto è grande l'imperium. no come non detto. Tornate indietro. Ok. No. O magari sì. Dai. Va comunque bene. Voi potreste eliminare direttamente quelli. Che non sarebbe una brutta cosa. Perché mi leverai. Mi leverai dei tank. Basta. Però stanno da schifo. Potrei indebolire loro. Legioni su legioni. Sì sì. No ma è una cosa. Letteralmente impossibile. Da calcolare. Talmente sia. Talmente sono. E voi. Ma se andate qui. Ah dai. Se andate qua. Un po' di perdite. Me li infliggete. Sti minchioni. Mi va bene allora. Andiamo di qua. E qui abbiamo questa brutta cosa. Mmm. Mmm. Se andiamo qua. La distruggiamo. Sì. E allora. La distruggo. Perché. La ritengo più temibile. Ora io vi. Faccio replacement. Non molto. Ma. Qualcosina. Credo che in realtà. Prossimo turno. Questa comando va via. Ora. Ho un'altra slot. Ed effettivamente. Proprio dal proposito. Mi prenderei un'altra comando. Perché questa qua. Va giù. In un. Non nulla. Quindi. Me la prendo. E me la piazzo qua. Pronta. Pronta. A sostituire. Vai così. Vai così. Andrei. Andrei di. Una volta liberato di queste truppe. Cioè eliminata questa almeno. Io andrei. Verso qua. Verso questa. Questo esagono. Perché. È quello proprio da cui già vedo che arrivano truppe. Quindi. Penso magari di fare uno. Due. Magari spostarmi verso di qua. Fare prima. La parte orientale. E vediamo. C'è comunque già gente da sopra. Quindi. Si impegnano comunque ad arrivare. Pur sempre gente che sconfiggiamo e non c'è dopo. Però. Mi avete eliminato un'altra Ogrin. Che io mi vado immediatamente a riprendere. Ok. Gli alleati. Vabbè quelli non posso riprenderli. Però. Innanzitutto. Voi esplodete una volta per tutte. Anche voi. Benissimo. Divino. Oserei dire. Ho già detto che detesto gli orchi. Eh beh. Da buon imperiale. Come poter pensare il contrario. D'altronde. E abbiamo eliminato quelle caccole. Quindi il loro posto verrà preso. Da questa squadra comando. Molto simpatica. Ok. Elimino subito questo carro. E siamo molto contenti. Molto bene. Mmm. Mmm. Fatemi pensare. Questi alleati potrebbero andare bellamente in prima linea. A sfondarmi un po' della gente qua. Benissimo. Questi cinque. Mmm. Tutto loro posso riprenderli. Almeno li abbiamo ripristinati. E anche voi. Ok. Basilisk. Eccolo Basilisk. Bravissimo. Tirami una bella ammazzata qua. Ok. Thunderar. Ma. Ti svelo una cosa. Ah. Ok. Giusto. Voi eravate qua. Nessun problema. Nessun problema. Arriviamo qua. E vi elimino. Ecco. Proprio te volevo. Ok. Un po' di perdite le infliggo anche a te. Chi altro rimane? Allora questi qua appena presi. Mmm. Mmm. Dettagli. Dettagli. Sì. Sì. Chi altro manca a fare qualcosa in questo turno? Mmm. Questa squadra comando. Che potrebbe semplicemente riprendersi i suoi numeri. Loro invece. Mmm. Potrebbero andare direttamente qua ma. Oppure. Oppure qui. Ed eliminare questa squadra di caccola. Perfetto. Fatto questo. Fatto questo. Penso effettivamente di aver fatto tutto. E questo. Punisher. Potrebbe rimanere qua semplicemente. Gli altri da riprendersi i numeri. Non credo. Ok. Ora pensiamo appunto ad andare. Anche qua. Ecco. Anche qua ce l'abbiamo proprio qua davanti. Quindi possiamo pensarci. Uno. Due. Tre. Proprio andiamo dritti. Sì. Poi possiamo pensare prima a quell'orientale. Vediamo un po' come si evolve il percorso. Dai. Eeeh. Queste caccole. Molto cattive. Però non hanno fatto molto in questo turno. Devo dire. Mi aspettavo facessero più roba. E invece. E invece no. Bene. No. Così non morite. Sì. Io vado qua però. E invece così morite. Mori. No. Di poco. Dai. Please. Niente. Nemmeno così. Uffa. Ci ho sperato. Sei duro da mandare giù eh. Con lo sputo di vita. Però se balzo il ba. Ecco. Se io dico al basilisk di fare quello che deve fare. Tu te ne vai. A casa. Ora. Vediamo qua cosa ci aspetta. son tentato di lanciarli proprio dritti per dritto qua davanti. Però ho anche il timore che prima di arrivare a questa casella la linea di vista ci permette di vedere altro. E invece no. Perfetto perfetto proprio. Perfetto proprio. Guardalo lì. Perfettissimo. Squadra comando in posizione. Oh. Ma che bello. Questo warboss muore. Questi qua indeboliti. Un po' di indebolimento anche così. Vai. Tranquillissimi proprio. D'addio. A sto punto potremmo mandarci un'altra. Un'altra squadra. Non lo so. Perché qua abbiamo gente che comunque ci arriva. da sopra che sicuramente sono i difensori di questo punto. Abbiamo slot da riempire di nuovo? Sì. Ne abbiamo due. Ne abbiamo due. Ora. Come siamo messi a carri? Ci è stato eliminato un Vanquisher mi pare. Vero? Perché ne abbiamo uno qua. Ma non abbiamo un altro. Quindi ce lo riprendiamo. Non c'è problema. Abbiamo ancora un po' di soldi. Quindi sfruttiamoli. Dov'è? Il Vanquisher? Eccolo qua. Piccola domanda. I formicaio hanno le sezioni di agricoltura dentro le serre per sostenere i cittadini o solo rifornimenti esterni? Dipende dal formicaio. Nel senso. In realtà solitamente c'è altro. C'è uno dei principali cibi del comune cittadino imperiale e il brutto rancio di cadavere. Però magari sezioni migliori del formicaio e magari sezioni un po' più alte. Roba in cui coltivare cibi un po' più sani, un po' più buoni, diciamo, ce l'hanno sicuramente. Sì, sì. Noi. Comunque non è solo di rifornimenti esterni. Però diciamo che solitamente impianti di sostentamento autonomo sono magari riservati appunto ai livelli più alti. Altrimenti la roba comune, tanta roba comunque arriva da mondi agricoli o altri mondi che hanno qualcosa di buono da esportare. il comune cittadino del formicaio non ha granché come cibo. Esatto, appunto, dico, arancio di cadavere, quello è proprio un classico. Un evergreen. È per effetto psionico. Loro ci credono di essere più veloci con il rosso o pensano di essere anche altre cose, tipo il viola li fa pensare di essere invisibili. O meglio, di essere molto sneaky, di essere molto furtivi, quasi all'essere invisibili. Come il giallo, secondo loro, è più ricco. Sto pensando a cosa fare che questo Punisher, cosa potrebbe fare? Allora, allora, pensiamo. Facciamo fruttare un po' questi alleati a un certo punto. Questa squadra, stupenda, va proprio dritto per dritto qua. Questo punto in realtà è un po' una rottura di palle perché abbiamo un fiume in mezzo e dobbiamo passare un po' esternamente. Però ci attrezziamo. Linea di vista? No, non vediamo nulla di nuovo. Non importa. Allora sarei tentato di andare qui e levarmi magari il più possibile questa squadra. Ma infatti gli orchi, come gli avevo spiegato in momenti BG54, sono stati creati per essere un esercito perfetto. ed effettivamente lo erano prima di... quando erano Croc. Quando erano Croc erano l'esercito perfetto. Se sei interessato, Tommy, se cerchi i momenti BG54, si parla di origini degli Eldari, origini degli Orchi, origini di Necron Tear, e tutte le origini dell'universo ci sono in quella... Ho una voglia matta, ragazzi, di prendermi a un certo punto il tempo e trasformare i momenti BG54 e 55 in un video, perché non avete idea di che cazzo di roba viene fuori. salve! Ora penso anche a lei, eh. Ci abbiamo anche questo qua. E poi... Ah, giusto, abbiamo anche questo qua più nuovo che mandiamo... qui. Olè! Tu vai in avanscoperta. Benissimo, almeno sappiamo cosa c'è per la strada. Qui... niente. Ci possiamo provare, ma... non ci siamo fatti letteralmente nulla a vicenda. E poi... penso basta. Il basis... beh, il basis potrebbe spostarsi, eh. il basis potrebbe fare questa cosa così che poi ci punta qualcosa di buono, secondo me. Questi qua, invece... Sì, beh, anche il thunderer. Sì. Anche voi potreste fare qualcosa. Voi vi metto qua, così, a sfizio. Anzi. Anzi, aspetta. Dai, meglio. 17 è un po' meglio. Eh, no, ti consiglio di recuperarlo, quell'articolo, perché... scoprirai molto bene cos'erano gli orchi prima di essere gli orchi. Ok. Quella squadra ha fatto da carne e da cannone e va bene così. bene. Mmm... Se voi mandate qua, questo cannone muore all'istante. Molto bene. Stupendo. Se voi sparate... Riesco a farvi un po' di morale a farvelo ulteriormente andare a rosso? Mh, no. Adesso sì, ma speravo di farlo prima. Non importa. Sì, io vado qua. Poco, ma è un poco che mi posso accontentare. Benissimo. Benissimo. Mmm... Ok. Ah, voi andate qua? A nuoto? Bravissimi! Complimenti, signori. Levatemi un po' di gente qua. Voi esplodete malissimo. Bene. Fate una bella van scoperta come si deve. E ora pure questo cannone. Lo devastiamo. Mmm... Così poco? Mmm... Se faccio così... Mannaggia! Non volevo... Non mi ero accorto di andare così vicino. Non importa. Ah, aspetta. Allora, andiamo qua. Così, questo lo indeboliamo un po' così. Questo cos'ha? Questo si deve fare un bel giretto, mannaggia. Oh, questo però... Questi ogri possono andare là. Sì, dai che piano... Ce la facciamo, ce la facciamo. Dobbiamo fare un po' di... Viaggetti rapidi. Ora... Loro farebbero poco. Ma tu ti percheresti già un po' di mazzate in più. Quindi mi fa piacere. Mmm... Mmm... No, riprendetevi morale. E' ammirazione quella che vedo. Eh, no, no. Anche i Necron Tear. Belli, belli. Tutte le loro... Le storie d'origine di queste... Di queste civiltà sono molto... Tutte molto affascinanti. Cos'altro? Cos'altro? Questa squadra che potrebbe muoversi ma non ci risulterebbe particolarmente utile. Mmm... Loro preferisco tenerli qua e poi li mando avanti laggiù. Direi... Apposterrimo. Ok. Arriviamo al settimo tu... Ah, vabbè, annaggia il Basilisk. Riprendiamo il Basilisk. Ok, come ho detto... Lo abbattono facilmente, ma finché non lo abbattono... Ah, non abbiamo abbastanza punti? Mannaggia. Mannaggia. E non importa. Ci adatteremo senza. Ok, salve. Come va? Facciamo il giro. Ci riprendiamo i numeri. Voi morite e questo altro cannone ora lo abbattiamo. Ora, pensiamo qua. Questo qui... Può essere bellamente indebolito. Questo Punisher... Può occuparsi di questa squadra. Stupendamente. Questi Ogri non riescono ad arrivare lì. Però se faccio così... Se faccio così... Muoiono. E il punto ce lo siamo preso. Cioè, l'abbiamo liberato. Un po' più avanti... Un po' più avanti... Perfetto. Così anche questo... Muore. Ma come... Liberiamo rapidamente. Allora c'è un altro cannone... Bastardo. Ebbè, ma se ci sono tanti Orchi... Anche il Custode cade, eh. Ovvio, un singolo... Un combattimento uno ad uno... Dipende dall'Orco. Bene. E qui abbiamo fatto... Qui abbiamo questa gente simpaticissima... Che adesso... No, ma oddio no. Terribile. Ma anche perché questa com'è? Come casella. Ah, è terribile. Effettivamente è una casella... Davvero forte. Poi qua hai difesa a meno 5. Stupendo. Allora andate in città magari, eh. Spostatevi un pochettino... Che altrimenti... Una merda. Posso fare qualcos'altro di utile? Sì, posso farlo. Posso indebolire ulteriormente uno di questi cannoni. Dai, dai che... Settimo turno... Siamo già bellamente... Pensavo di fare appunto prima la parte orientale... Invece mi rendo conto che... Andando proprio a... In avanti così... Si fa... Si fa... Si fa... Già fatto? Nessun problema allora... Voi andate qua... Conquistate il punto... E il cannone è morto. Magnifico. Cannone subisce ulteriori perdite. Cannone distrutto. Va che bella roba. Altro cannone va a farsi fottere. Vai così... Vai così... Va che roba bella. Che bei risultati. E abbiamo fatto qua. Ora questo punto... Noi lo andiamo a prendere. Questo cannone lo esplodiamo in un turno. Questi tornano simpaticamente indietro. Questo carro... Questo carro... Ah... Ah... Fastidioso. E così pian piano andate giù. Non preoccuparti che... Ti faccio comunque molto male. Anzi... Anzi aspetta... Vai qui perché almeno mi riprendi un po' il morale... Da questi qua. Vai così. E ci siamo. E tu vai qua perché è un po' meglio come casella. Cos'altro manca? Abbiamo questo Punisher. Questo Punisher dove potremmo mandarlo? Potrebbe fare dei bei danni qui? Beh, un pochettino. Non moltissimo. Però... Non è male. A posto. Queste caccole vanno subito a cacare. Direi che potremmo andare un attimo a liberare questo, eh. Ma... Pensiamo prima qui. Io qui vorrei. Ok. Quanto ci mettiamo? Dai! Oh! Forte. Forte. Ma è morta pure lei. Ci riprendiamo i numeri. E sono comunque una gran bella minaccia i orchi, eh. Cioè Armageddon l'ha capito molto bene, ad esempio. Che sono una minaccia molto importante. Hmm. Hmm. Questo Punisher l'abbiamo fatto. Potremmo andare di qua, però qua avremo un bel po' di difese. Quindi... Abbiamo anche quest'altro qui. Quindi devo pensarci, perché poi sono pochi qua, eh. Per un punto sì, ma non fanno grande avanzata cosmica, quindi... Dovrei più che altro magari pensare qua se vedo qualcosa. C'è una van scoperta? Ok. Allora, il cannone lo eliminiamo immediata subito. Questi li sfondiamo. E in un turno questi ce li siamo già levati. Eh, ma Tommy, ti giuro che... Non sono assolutamente da sottovalutare gli orchi come minaccia. Uh, aspetta. Riusciamo a... Se faccio così... Ah, non riesco a devastarti, mannaggia. Volevo fare qui. Ah, invece no. Invece no, sono riuscito. Molto bene, perché volevo farli andare qua. In modo da rompergli orribilmente il morale. No, non ho grandi risultati facendo così. Quindi me lo recupero un po' di corazza. E ci siamo. Mi piace la discussione che è stata avendo comunque, eh. Giusto perché lo sappiate. Andiamo avanti, ma ci mettiamo in copertura. Mmm. Dove può essere conveniente. In realtà da nessuna parte. Andrà bene qua. E... Ho fatto tutto, credo. Sì. Dai che va molto bene. Oh, le. Voi. Fate a botte con questi. Eliminateli una volta per tutte. Ora ci riprendiamo i numeri. Ci riprendiamo anche un po' il morale. Andate tranquilli che ci attrezziamo. Vai così. Il Punisher. Può liberarsi un po' di questo. Non credo terremo niente, infatti. E invece questo è andato. Vai così. Vai così. Guarda che bel cannone là. Ah, che bel cannone là. Guarda che lo ammazziamo subito. Oh, le. Vai così. Vai così. Qui ci riprendiamo. Prima un po' il morale. Perché altrimenti... Non andiamo molto avanti. Se abbiamo il morale a terra. Quindi stiamo un attimino fermi. Ma ci riprendiamo. Voi non so cosa potreste mai fare. Per carità. Sì, mi potete fare anche voi da van scoperta. Mettetevi nel veicolo. Andiamo bene. Voi anche... Sì, sì, sì. Facciamo avanzare. Tanto abbiamo visto che questa parte di mappa ce l'abbiamo... ...complessivamente abbastanza libero. Possiamo andare relativamente in tranquillità. Voi non avete fatto niente. Allora... Ricongiunge... No, ricongiungetevi. Non lo so, eh. Più o meno. Perché potremmo portare le forze qua. Andiamo su questo punto. Che poi fanno il giro. Prendono la strada qua. Questi due imbocchi. E poi veniamo a fare queste ultime due parti. Considerando... ...strade e fiumi. Sì, sì, sì. Allora voi rimanete qua. Rimanete qua e stiamo contenti. Quindi... ...possiamo passare. Oh! Quasi a metà dei turni. Hanno fatto niente? Allora vuol dire che non stanno molto bene. Perché non hanno così tante truppe da mandarmi avanti. Pacevole. Cosa molto positiva. Ora... ...mandiamo... ...il chimera... ...davanti. Non vede niente. Non vede niente. Ok. Uff. Benissimo. Voi state da schifo. Vi elimino subito. Ok. E anche quel cannone lo si eliminerà molto facilmente. Vai così. Molto rapidi. Molto rapidi. Mosso tutti? Sparato tutti? Sì. A posto. Voi... ...rimettetevi il torriolmente in sesto. Aha. Aha. Voi andate qui. Che stiamo un po' meglio. Uh! Guardali là. Pezzi di merda. Ma devi tirare un colpo. Così. Ha fastidio proprio. No. Stai qua. Sbagliato. E ci siamo. Questo cannone a chi sparerà? Nessuno. Meglio per me. Andato. Questo è già distrutto. Non so se posso aspettarmi della roba qua, eh. Un colpo a sfregio. Sì, sì. Proprio a dire vaffanculo così perché posso. Ok. Facciamoli avanzare il più possibile. Tanto non è necessario che io prenda... No, non è necessario che io conquisti i vari punti. Quindi, anche se li lascio così, non è... Non è importante. Mosso tutto. Tranne voi che state qua. Bellamente in difesa. E ora arriviamo con tutto il resto dell'esercito. E non fate niente. Ma a me va benissimo così. Da. In realtà potrei passare di qua, eh. Però mi... Meglio le strade, in realtà. Ole. Sparpagliatevi un pochino. Allora, questa... Questa squadra, devo dire che... Il prossimo turno la mando un attimo su, eh. Per essere sicuro che qua sopra non ci sia niente. Giusto per... Tanto non mi occupa così tanto tempo. Mentre il resto... Giusto, cioè, ci siete anche voi. Voi riprendetevi un po' perché siete proprio depressi. E qua siamo a posto. Nient'altro da fare. Voi siete fermi. Andiamo. Proprio ci lasciano qua. Proprio non ci facciamo niente. Andate su. A posto. Vuol dire che effettivamente non c'era nulla qua. Allora, faccio giusto così a... Boh, non c'era nulla. Quindi posso tornare... Annullare il movimento e tornare giù. Senza problemi. Voi che siete una squadra molto messa meglio. Andate dritto per dritto qua. Me le eliminate al volo. Stupendi. E ora andiamo pian piano. Qui. Facciamo avanzare bene. Vai così. Anche voi a sto punto scendete. E ci siamo. Chi altro non... Ah no, giusto. Tu non ti sei mosso. Ma in realtà... Non ti non... Ti manderei solo sotto, quindi. Tra le System Shock. No. Non l'ho visto. Ma io purtroppo non ho mai giocato System Shock. Ho solo degli amici che me ne hanno sempre parlato bene. Però non l'ho mai... Mai giocato. Spero sia un avete visto per dire perché è bello. Cioè, spero. Tranquillissimi proprio. Tranquillissimi. Uh. Qua davanti così? Beh. Li faccio così. Eh, tu sei bello che è andato. Quasi. Quasi andato. Fammi vedere come siete qua. Uh. Qua avete un po' di roba in più, eh. Però Questa squadra Di alleati Riesce a sistemare bene questo cannone. E se io vado qui Questo cannone non c'è già più. Perfetto. Ho presente Bioshock. E Barone Mi... Mi dice che è giusto. Ok, ok. E dai, lo guarderò. Vedrò, vedrò. Magari. Un giorno. Si recupera anche quello. No, non così. Un po' una casellina in più. Aha. Va, perché no. Un colpettino. E si va. Ultimi due dovrebbero essere. Questo e questo. Voi prendereste un po' di perdite. Però aspetta. Untiamo prima i cannoni. Questo è andato. Questi sono eliminati. Ah, ce n'è ancora. L'ultimo. Ah, ma che effettivamente forse contano solo queste, eh. In realtà forse i cannoni grossi non contano. Perché mi dice l'ultima, quindi... Poi è probabile che sia questo qua. No problema. Però vuoi non rompergli le palle ammazzandoli pure questo cannone? Eh, poi da fastidio, eh. Oppure no, dipende perché... Però ci ha detto vicino ai punti. Non lo so. Potrebbe essere questo l'ultimo o quest'altro. In ogni caso, uno l'ho distrutto e l'altro quasi. Quindi. Vai così. Questi qua possono andare là. Tutti i restanti. Tutti i restanti stanno qua. Ok, era quella l'ultima. Quindi adesso la andiamo a pescare. No. Era no. Avevo ragione io. Era quello... Era questo cannone. A posto. Buonissimo. Procediamo. Buonissimo, comandante. Tu hai dato il orc warlord a severo blow. Hades sta andando molto più lungo ora che abbiamo distruttato le batterie di siegge. Prima che le cose accurcatele erano anche operazioni. Distruttare le flac guns anche è un grande boone. Ma che i occhi non saranno mai sicuri per quanto riguarda le orcci sono qui, possiamo almeno capitalizzare sul lullo che hai creato, per iniziare un'evacuazione di personale non essenziali per Asheron Hive. L'Empere è disposto, le scuole devono riuscire a scuola non molestate. Voglio te e i tuoi uomini nel ultimo volo. Prendi quel comissario di te con te. Eh no, eh no. Lui ci, adesso, cioè ci fa i complimenti, poi che dice comunque, eh vabbè, anche se comunque i cieli non saranno più comunque mai così tanto sicuri, aver distrutto tutte quelle artiglierie, anche le antiaeree, migliora la situazione. Però ci invita ad andarcene, ci invita a prendere l'ultima nave del vuoto per andarcene. Ma io non voglio abbandonarlo, io voglio stare con Jarrick e collaborare con lui. Perché da una parte potremmo dire appunto che il formicaio è destinato a cadere, ma almeno abbiamo un po' di tempo per evacuare. Vieni con noi commissario, il resto di Armageddon potrebbe usare la tua leadership. Però no. No. Io rimarrò con lui. E dirò, no commissario. Staremo con te. No. No. I need someone mildly competent there to help defend it. You have come a long way since our first meeting, Commander. War has a way of fashioning greatness out of men that isn't always obvious early on. I've seen it before, but it is rare. You are one such example. Now go! Help save this world! Ha 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 ha! Kill them! Kill them all! Hello, Commander! You do get around, don't you? Alas, this looks to be the end. You have my personal good wishes in the impending engagement. Please forward them on to the citizens of Asheron. I send a gift of 20 of my personal bodyguards. I've had enough of their chuntering about a lack of action, so I send them to you. Station them on the front gates, and ensure they are the first to see the action they crave. I would send the Emperor's blessings, but I can't see how that will help. Farewell. And again, Commander, I am forced to question your motives. You have taken us from one hopeless situation to the next. At least in Hades Hive, we were operating under the auspices of Yarrick. How can we affect things here? The orcs are striking in greater numbers than we have ever seen. By the light of Ophelia, look! They're coming! Commander, order the men to defend the Hive! I find your pessimism trying, Commissar. Let us take Yarrick's example. He inspired us, and in turn, we inspire the men of Asheron. Captain Carone. Colonel Carone. It's good to see you again, Commander, and your... Commissar. After we separated, my men and I made for Asheron. The season of fire comes. Even the orcs will struggle with the conditions then. And there are reports that the warp storms are a... Here they come! Get ready! The final episode of Sarm of Asheron Purtroppo Yarrick non accetta il nostro coraggio, meglio, la nostra volontà a rimanere con lui. Quindi no, ci respinge e dice No! non voglio Vanagloria. Ho detto che sarai più utile andando da un'altra parte, e quindi... così sarà! Vediamo quindi spediti verso il Formicaio Asheron in questo luogo ritroviamo alcune persone, o meglio in realtà una in particolare perché Bonstrab non ci sta chiaramente parlando di persona ci sta ovviamente parlando tramite comunicazioni Vox e infatti ci dice che ci manderà alcune delle sue guardie del corpo probabilmente saranno degli alleati magari, se non è solamente un discorso a livello di lore e nel formicaio Asheron da una parte abbiamo il commissario Faldrak che è un po' che non sta totalmente dalla nostra parte non è proprio d'accordo con le nostre azioni perché dice già eravamo in una situazione terribile, adesso andiamo pure in una peggiore dillo a Yarrick, però io mi fido di Yarrick a sto punto, quindi va bene Corona invece lo ritroviamo che non è più un capitano, bensì un colonnello è stato promosso e ora però comunque il formicaio Asheron viene attaccato quindi come ci siamo occupati di difendere e contraattaccare intorno al formicaio Edis ora farmo la stessa cosa con il formicaio Asheron perché Armageddon deve essere salvato e l'obiettivo dello scenario è controllare almeno 5 esagoni vittorie alla fine dello scenario ok ah quindi è più una difesa perché vedo anche qua una mappa sì, è una mappa che avevamo già affrontato il davanti di un formicaio però dobbiamo essenzialmente tenere questi punti ne abbiamo 6 6 vero? sì abbiamo 6 e ne dobbiamo tenere 5 ok, difesa molto semplicemente difesa allora facciamo 1, 2 1, 2 no 2 1, 2 perfetto così facciamo una qui 1, no no, 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 no qui perfetto questa qua quindi abbiamo doppia Ogri in ognuno con squadra comando per ripristinare il morale con squadra armi pesanti bella qua in copertura Punisher 1 qua Vanquisher 1 qui Vanquisher 1 qui un altro qua Thunderer qui benissimo così possiamo andare a prendere un altro Punisher che metteremo qua qui allora aspetta abbiamo qui quindi un Vanquisher e un Punisher qui un Vanquisher e un Thunderer abbiamo altre 5 slot quindi qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 3, 5 1, 2, 3, 4, 3, 5 le squadre sono abbastanza equivalenti se escludiamo questi questi alleati qua ah, vedi si chiamano proprio i i precedentemente guardi ex guardie del corpo di Von Straub proprio sono loro e beh non so quanto duderanno eh grazie 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 recupererò il gelato al pistacchio in freezer dopo grazie per la comunicazione e cos'altro mettiamo devo pensarci direi un altro corazzato qui a sinistra perché secondo me ce n'è bisogno devo solo pensare a che cosa perché abbiamo solo un Punisher quindi metterei innanzitutto un altro Basilisk che almeno stiamo un po' meglio e un altro Vanquisher qui qua così e ci troviamo bene direi però dobbiamo sfruttare ogni slot perché non possiamo lesinare quindi metteremo un allora un altro Punisher qua facciamo un po' le cose abbastanza equilibrate facciamo un po' di antifanteria un po' di un po' di tutto poi però aspetta adesso ne abbiamo di due 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 potremmo quasi quasi beh no sull'aerea per adesso non c'è niente di interessante perché abbiamo solo solo il Vulture e il Vulture non è così così bello quando se sbloccheremo altro volentieri ma per adesso quell'unica scelta l'ho trovata un po' molto me fa un po' di scouting per l'esplorazione va bene ma non l'ho trovata utile per altri ruoli e qui lo scouting alla fine non ci serve nemmeno perché anche volessimo farlo qui dobbiamo puramente difendere sarei in realtà per prendere a sto punto un'altra di Ogryn qui e un'altra che andiamo a mettere qua davanti abbiamo finito vero? sì dai salviamo come al solito all'inizio delle missioni ma roba nucleare non ce l'abbiamo no mi spiace oh ok beh direi che non è che abbiamo molto da fare cioè dobbiamo aspettare possiamo sì pensare a questi io non so saranno forti cioè io non so se hanno delle statistiche più belle per dire in confronto ai miei no sono assolutamente identici hanno ah no i miei hanno più difesa ah beh ma quello no dipende dalla posizione dal fatto che sono in copertura no come statistiche sono uguali sono effettivamente una squadra armi pesanti di supporto e direi che vi prendo sparate un bel colpetto qua mannaggia speravo di uccidermi niente per pochissimo vai a cacare non importa tanto sta una merda come morale quindi non farà molto il resto non ho individuato nulla e invece sì e invece sì abbiamo un leman rassraziato che faremo prontamente saltare in aria qui ci muoviamo e ci siamo oh si difende un bene comunque un certo botte ma prima di cadere ne ha inflitte vorrei dire andato ti mando subito qua oh quanta gente quanta gente chi danneggio meglio beh voi siete molto fastidiose quindi secondo me siete abbastanza prioritarie almeno vi infliggo un certo tot di morale fin da subito va bene tommy buona serata ci si ribecca magari domani magari in un'altra live buona serata voi state fermi tranquillissimi qua e qui allora qui dai una volta per tutte vai a cacare muori bom cadiamo con onore qua andata e questo è morto e ci siamo da questa parte invece abbiamo oh beh oh beh questa cosa cade immediatamente anche questo dovrebbe subito esplodere benissimo direi che siamo proprio divini in questo momento pare un attimino così perché almeno metto la squadra comando dietro la squadra che si trova in prima linea almeno mi trovo un po' meglio ok quasi quasi vedo poi se magari conviene direttamente spostare questa ogryn mettere la comando qua in mezzo così prende a dare bonus inizia a dare bonus morale anche a questo lemarras vanquisher nel caso non sarebbe male poi poi in realtà stessa cosa pensavo con loro metterla qua e così anche voi a sto punto almeno state un po' meglio qui siamo a posto il resto abbiamo fatto voi state bellamente in difesa quindi rimaniamo così oh sono caduti con enorme onore hanno piantato una quantità di danni immonda va bene no problema voi esplodete un massacro andata morti malamente da dio questi qua invece ma allora da una parte potremmo pensavo di dover prendere anche il thunderer e invece e invece ho fatto dei bei danni solo con loro e va benissimo così un po' di danni un po' di danni anche di qua va che bello voi niente ma magari chi posso beccare così voi anche voi per abbassarvi un po' il morale almeno siete tutti gialli gli altri stanno a riposo andiamo da questa parte deboliamo te tu niente non importa voi potete puntare qua benissimo potremmo ammazzare il carro delle caccole purtroppo non lo ammazziamo totalmente pace ci accontentiamo state comunque peggio di prima eh aspetta però c'ho quella mannaggia c'ho quelle bastarde lattine là che sono andate fuori dalla linea di vista adesso tra poco ci tocca ci tocca riprendere un altro Punisher infatti ma lo rireclutiamo al volo almeno ci rimettiamo in posizione no problema siamo qua Punisher 26262626 ecco ecco qua è il Punisher lo mettiamo subito qui questo sta una merda magnifico magnifico in realtà potrei permettermi di mandare questa qui un attimino qua meglio le lattine che le scatole di morte e su questo siamo d'accordo abbiamo già della gente qua no problema qui allora queste lattine fanno abbastanza rapidamente una brutta fine benissimo magnifico olè ora voi molto bene punto a voi perché almeno anche a voi vi abbasso terribilmente il morale vai così che andiamo molto bene procediamo decentemente siamo a un quinto si è fatto avvaleare queste squadre armi pesanti vanno giù ma prima di andare giù ficcano dei bei danni importanti a chi colpiscono quindi mi fa piacere adesso riprendiamo un vanquisher non problema lo prendiamo immediatamente tra poco ho anche un altro ok allora il vanquisher lo ripiazzo davanti in realtà io voi vorrei rimetterevi in sesto quindi andate a 14 tanto questi qua li elimino così a voi vi infliggo delle belle perdite in questo modo e sia comunque relativamente tranquilli da questa parte un po' di perdite così un po' così bene qui a sinistra mi piace e basta direi se si avvicina comunque i carico sopra i missili non si hanno no non abbiamo ancora né manticore né death strike a intuito io credo che prima o poi si sbloccano perché davvero io sto vedendo che in sto gioco abbiamo di tutto quindi a intuito posso pensare che ci siano però se ci sono non li abbiamo ancora sbloccati a inizio missione ci dice sempre quando sblocchiamo qualcosa di nuovo quando ci aveva aggiunto delle unità ci diceva proprio nuovi rinforzi controlla cioè tutto comunque inscenato quindi quando ci verrà aggiunto qualcosa sicuro che lo ce lo dice e vedremo però si i manticore mi hanno sempre attirato tantissimo quindi sarei curioso di provarli in sto gioco per vedere se sono utili ok il vanquisher comunque anche questo qua prima di andare ha fatto belle cose guarda la comando che me la puntano malamente bastardi ok riprendetevi il morale tutte e due tutte e tre punti meno 150 lo aspetta perché ok voi morite male benissimo ora pensiamo qua si mi trovo un po' più utile secondo me il thunder il thunder può puntare verso questi qua e il morale va a terra queste scatole benissimo anche i titani un giorno eh un giorno ci arriviamo non arriviamo pian piano pian piano si sbloccheranno anche quelli ce n'è di roba qua da 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 sbloccare allora tu vai subito a cacare così qui sarei per venire un attimo qui così perché almeno vi vengo subito a pestare questi sono bei dannetti però tu avevi ancora un morale completamente integro quindi preferivo qua questo qui allora il punisher potrebbe andare direttamente un attimino a fare questa roba non ce lo rompe subito vabbè tutta questa gente poi la ce ne occupiamo post direi di aver fatto tutto presumo si dai sette vai che si va prezzi di merda sta comando ma è che le posso rimettere cioè sono comunque comodo che ho ancora un certo tot di punti me le posso permettere però sta artiglieria io volevo utilizzarla laggiù che mi utilizzava contro quel cannone la lontano io innanzitutto la avvicino che comunque va bene e ora contro di voi così meglio va bene voi state divinamente quindi no vorrei rimettergli i numeri ma così sono tanti punti che si riprendono quindi non riprenditi un po' di morale ma per quel che è dura prima col vanquisher il vanquisher può fare dei bei danni qua uff uff vorrei davvero levarmi questa roba qua e fortunatamente l'ho levata mentre questi qua oh e anche voi andate a cacare vai così dai stiamo decisamente bene direi quanti punti mi chiederesti per prenderti no 240 punti no meglio di no mmm ti rimando un attimo indietro mi trovo meglio e e anche te un attimo indietro dai abbiamo in realtà già due robe da poter prendere comando io a sto punto sarei per prenderla subito almeno non spreco tempo la riprendo già qua e poi prossimo turno si può già muovere almeno va questa me la distruggono io vado subito a sostituirla facciamo i più previdenti possibile magari poi vediamo da questa parte perché secondo me poi ah giusto un altro vanquisher abbiamo bisogno da questa parte sì sì perché ce l'hanno tolto quindi dobbiamo decisamente riprendercelo ah pensavo e invece infatti quella comando tolta ora una comando ce la riprendiamo ulteriormente dai che va bene faccio così almeno vi elimino seduta stante comando e la mettiamo immediatamente qua non morite mannaggia ok qua non arriva ancora nessuno vabbè meglio per noi a sto punto possiamo eliminare questi qui questi li indeboliamo malamente in questo modo e ci siamo e questi qua li mettiamo qui ok state bene buono vorrei solo a un certo punto andare a prendere quella merda di carro laggiù che sto stronzo ci spara da lontano vediamo 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 nel frattempo va bene così comando presa comando sta benissimo comando sta benissimo ok si ok risultava strano dopo un po' siete così lontani che in un intero turno vi vedo poco dovrebbe essere un buon segno il fatto che ci mettano tanto però le due artiglierie sono fastidiosa dai dai finite il vostro turno amici miei bene speravo di ammazzarvi una volta per tutte morti sì grande vai così qua va niente basta in mezzo abbiamo deciso che stanno a posto van tranquilli riprenditi il morà oh sì approfittiamone qua per riprenderci un po' il morale in certe truppe qua invece stanno contenti qua la guerra non esiste la pace regna sovrana qui sono quelli un po' più piallati quelli un po' più pressati dal nemico devo dire a me da fastidio quell'artiglieria laggiù da molto fastidio resisto eh per carità però va bene ora pensiamo anche a questi due carretti belli beh ci hanno messo un po' a buttarmi giù la prima ogre in detra quindi quindi è un po' a buttarmi giù Uh no, mi becco tanti danni io Quindi Non volevo fare questo Mannaggia No, non mi piace proprio Come mossa Mannaggia Mannaggia Meglio Sì E qua c'è bisogno Di gente che fa cose Poi per carità nel caso possiamo spostare Della roba però Uff, questa è bella potente Si fa sentire la forza di quest'unità Ci prenderemo solo danni noi qui Madonna mia Qua no, però mi busco tante botte anch'io Così Così ti becco ancora Però Ampro tutto il passaggio Eh sì Fastidioso 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 direi Fastidioso perché Non infliggo molto Provo comunque Per questione di morale No, non riesco ad abbassarglielo Almeno faccio un po' di danni qua Pensiamo qui Pensiamo qui che abbiamo gli stessi identici problemi Qua però abbiamo un thunder Che fa discretamente il suo lavoro E infatti qua L'abbiamo mazziata immediatamente Bene Siamo a metà Oh, siamo a metà Dai Queste Skulam Battle Fortress Si fanno sentire Però Sconfiggeremo anch'esse Il Punisher Che ci ha servito con tanta fedeltà Finora Si Quanta gente Porca merda Difendere è una roba allucinante qua Eh vabbè Quanta gente c'è Alleluia Sto una merda Sono tentato di prendermi un sentinel Solo perché è un cannone laser Potrebbe puntare contro Perché è qua Eh Almeno questa è andata Però Madonna mia Oh Basta Vai a cagare Su Dai Muori Muori male Ti prego No Morite male Morite male anche voi Eh Su Dai che gli manca poco a questa Sono una delle maggiori barriere Devo dire No Cagata Si buscano solo mazzate Niente Mi sono utilizzato I ultimi punti Per riprendermi Ampene un po' di gente qua E vediamo Perché sono davvero tanti Ma qua li facciamo molto male Qua abbiamo un'artiglieria Che voglio decisamente togliere Ok Se No Tornate Tornate comodamente indietro Guarda Ora Si fa dura Almeno Rispondiamo bene al fuoco Perdiamo un po' di roba Ma Almeno Uuuu Ehi Ehi Stap E qua Non ce la faccio poi Eh Per carità Lecito perdere Però Cosa siete? Al gun track Ficcate a caccare voi Gun track Quella era una scatola di morte Nuova wave? Basta No Finite le wave Boom Dai Fermatele Qua non ho più modo di spararli Non ho modo di farli niente Vi prego Uccidetela Oh Una è andata Una è andata Madonna mia No 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 Terribile Ok Basilis Che almeno punta qua Che altrimenti Non si fa niente Qui Terribile Riprendetevi un po' Che è quella Cosa necessaria Tipo Devastate Devastate Grandissimo Ok Dai 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 Madonna mia Che male Che male Che male che mi fate Tutti hanno fatto qualcosa Tutti Sì Dai Le barche di merda Potrebbero andarsene a casa loro Quanti Quanti siete Sto finendo gli uomini qua Dio santo Quante bastarda Sta missione Che Cosa cosa ci sono rinforzi in arrivo lo spero spero non sia solo flavor che in realtà comunque la missione devo arrivare alla fine così perché aia e infatti mancano ancora un certo tot di turni quindi la vedo grilla ok sono comunque un po di botte madonna dio santo vedremo se dovrò se accapiterà qualcosa ma mandato i titani mannaggia voi dio santo questo turno la vedo la vedo brutta esistete buttate giusta merda dai dai che sta andando giù anche quella su su è l'ultima che rimane non che poi sia finita però almeno le cose decisamente più temibili tanto lo so che sarò felice e poi me ne spunterà un'altra ho finito gli ogri no minchia sti due punti me li prendono però devo averne cinque scusa attenzione attenzione ecco cos'erano le navi e improvvisamente arrivano i rinforzi da parte degli angeli sanguinarie degli ultramarine wow che figo che bella prima entrata per i marine pure fuori maton no stupendo pure con guardia sanguinaria ma è taiko che bello c'è il capitano taiko ma stupendo che l'abbiano inserito così ma che figata no vabbè ma è bellissima sta cosa che giustamente ancora normale c'è ancora capitano non ancora nella guardia della guardia della compagnia della morte stupenda sta cosa no vabbè ma che bello bellissimo finiano anche sto gioco come sa raccontare le cose bello bello madonna mia ma ragazzi ma adesso cosa cazzo volete fare si è quello con la maschera d'oro si è stata deturpata la faccia e lui si è diciamo riparato così ok madonna mia e adesso ma come vi pestiamo male oh 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 ok utilizziamo tutto quello che possiamo utilizzare qua e poi ah si si andiamo che figo mi perdo un attimo a curiosare le squadre che figata bellissimo però no ma poi il tocco di mettere taiko qua bellissimo bellissimo aspetta ma è dante no ma c'è anche lui no vabbè ma è bellissimo ma che figo è entrata in scena di dante e taiko contemporaneamente così madonna mia ragazzi e arrivano anche i calpezza eh quindi comunque comunque non è che ci vanno con gentilezza eh sono arrivati rinforzi ma non vuol dire che anche loro non li abbiano quindi attenzione ma quelli non li ho visti vabbè no ma bellissimo bellissimo ecco perché perché non c'è perché l'avevo visto però non ci avevo pensato non ci ho fatto caso nel senso ecco perché quando cambiavamo turno quando ci dava il nostro turno non diceva still legion diceva imperium ma io ho detto boh magari dice imperium dice imperium perché effettivamente avevamo le guardie del corpo di vonstrab magari erano diverse e invece perché effettivamente a un certo punto sarebbero arrivati loro quindi abbiamo tenuto così loro arrivano arrivano in soccorso che è bello e ora loro respingono l'attacco quindi effettivamente era giusto così cioè noi stavamo perdendo quasi tutto ma era corretto cioè era normale che arrivassimo a questo punto della missione che avevamo troppi nemici che bello poi no vabbè mi piace il doppiatore che hanno messo a Dante e soprattutto mi piace l'atteggiamento perché è Dante quindi non è è autoritario ma quell'autoritario che comunque vuole avere un buon rapporto con la persona con cui ha a che fare mi piace bello bello fin da subito già con questo primo dialogo è una bella presentazione per Dante ok allora attenzione io posso dire tipo mio signore non sono degno della vostra saggezza o anche essere semplicemente nella in presenza degli Space Marine dell'imperatore ma se oso dare un suggerimento il formicaio il formicaio Edis ha bisogno della vostra immediata attenzione oppure oppure se potessi chiedere signore che lei ah ok potrei chiedere signore di comunicare con ah di che voi che voi comunichiate con il governatore vonstrab come mai ah potremmo essere dei coglioni essenzialmente e dare tipo ah sì contattate il governatore vonstrab perché sicuramente avrà una panoramica migliore delle difese planetarie delle risorse militari e di tutto il resto assolutamente no noi diremo al buon signor Dante che che il formicaio Edis ha bisogno della nostra attenzione buonasera Demasta bello come dovete orti che sono il regale come che di non attenzione il giudizio il infidizio tu e il il è assurda assurda potente si potremmo prendere il questo mondo per tutti ma la 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 l'ha la 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 E questo non è tu, signor Dante, o tuo pezzi umano, il comandante. Sono i Xenos, il signor Gaskul Fracca, che vanno! Spero che si evitere tutte le spazio marini e i trecchi guardi quando si arriva! Ascheron è sicuro. I salamandosi garantiranno che sia così. La Hive e i suoi fattori sono locati in open terreno e restano vulnerabili. Le Green Skins possono attacchere us in ogni direzione e deal a lote di damage. Per mantenere il complexo, i salamandosi brosani riusciranno immediatamente, e scegliere i cruciali crossings over the Stigis River. In questo modo, ci possiamo assicurare che nessun reenforzioni di Xenos che arrivano sull'altra parte del Stigis e attacchere Ascheron. Viene, Vulcan's Wrath. Ci prenderemo le brevi, mentre sei che sei in Hades. Molto bene, Touche. Comandante, facciamo per l'Hades Hive, per rilievere i vecchi defendori. Per assicurare il nostro temporale, ci saranno in due pronti. Non rispetto, ma noi possiamo andare più veloce di voi. Io prendo una strumentazione per la passione di via in un'altra ruta sulle acienze. Ma sai il territorio bene, comando. Quindi prendo il tuo battaglio sul ruta sulle acienze. Io mi rendo la squadra di Blood Angel a vostro contigente. Lo so che non farai l'esercizione di pensare che potete adeptare adepti astartansi. E lo so purtroppo Barone perché hanno delle voci piuttosto basse, quindi per i prossimi dialoghi lo alzo. Normalmente abbiamo sentito che avevano voci generalmente più squillanti, però vedo che gli Space Marine, giustamente anche, hanno voci molto più con tono basso, quindi effettivamente si sentivano meno. Per i prossimi lo alzo, quando magari finisco una missione e prima di passare i prossimi dialoghi alzo il volume. Però sì, ci ho pensato effettivamente, però bravo che l'hai detto perché mi hai confermato quello che ho pensato mentre ascoltavo. Però bello, no no, un'entrata in scena stupenda. Siamo arrivati all'atto 2, all'atto 2 siamo arrivati al momento, siamo arrivati al momento in cui Von Strab, ah ci sentiamo sto cacchio, ah scusami pensavo di intendersi proprio per questione di audio. Ok ok, però comunque ok, va bene. Comunque lo alzerò, in particolare per questi discorsi. Siamo arrivati al momento storico in cui Von Strab tradisce l'Imperium. Perché uno dei punti più storici della seconda guerra di Armageddon è proprio il momento in cui Von Strab tradisce tutti e sostiene che sarà Gatskul Traca a vincere. Perché lui vede la situazione sempre più terribile su Armageddon. Nonostante ci siano questi nuovi rinforzi, lui ritiene che tanto ormai sarà Gatskul Traca a vincere. E quindi lui passa letteralmente dalla parte dei Yorki. È terribile questa cosa. È veramente un codardo orribile fino alla fine. Ora però, allora, devo dire Tushan mi spiace che il suo artwork non abbia la pelle proprio nero pece. Piccolissimo difetto, veramente. Devo dire che in questo gioco sto trovando... Questo è il secondo piccolissimo difetto che li trovo. Perché tutto il resto è enorme soddisfazione. A parte questo piccolo difetto magari della pelle che sarebbe dovuto essere proprio nero pece. Non nero etnia. Vabbè, pace. Posso comprendere l'errore. Però, a parte questo, ora abbiamo degli Space Marine dalla nostra parte. Perché abbiamo Taiko tra l'altro, vedo proprio. Perché vedo qua l'icona. Abbiamo Taiko con forze della Compagnia della Morte che lo accompagnano. Figo. Mi chiedo se potrò anche effettivamente reclutarli. Penso di sì, perché mi dice nuovi tipi di unità. Quindi sì. Sì, sì, sì. Penso proprio che potremmo usarli. Stupendo. Cosa stupenda. Niente, quindi il formicaio Asheron adesso sta meglio perché le salamandri se ne occuperanno. E noi adesso andremo ad altre parti. Va bene. E' bello come Dante ci abbia chiarito del tipo non pensare di poter dare ordini a un capitolo della Debt to Startup a Startes. Ma siccome le mie truppe riconoscono la tua maggiore conoscenza del terreno, dell'area, del posto, si affideranno comunque la tua saggezza. Mi piace come voglia, voglia comunque darci anche quella piccola giustificazione che non era necessaria. Non era necessaria. Cioè potevamo tranquillamente dire, ah vabbè, combattono con noi. E invece vuole comunque darci quella piccola giustificazione a dire, comunque sei tu che muovi le truppe. Sei tu comandante Nils. E quindi le muovi tu, anche quelle degli Space Marine, perché effettivamente si riconoscono la tua maggiore conoscenza del posto. Quindi stanno a quello che gli dici tu. Mi piace anche quel dettaglio. Come può uno mostrare sotto gli orchi? Ma, semplicemente pensa che loro vincano. Quindi, poi non vuol dire che gli orchi lo stimino, eh. Assolutamente. Ma la storia va avanti. Pian piano si scopre. Sono curioso anche lì di vedere come approfondiranno, come va avanti la storia di Von Strab. Perché, allora, ci sono umani che ogni tanto collaborano con gli orchi, ma più per lavori singoli. Per, o lavori mercenari, convenienza, patti strani magari con cui riescono un po' a giocarsi, gli umani riescono a giocarsi qualcosa sul magari ricompense che gli orchi pensano siano stupende. In qualche modo a volte dei patti tra uomini e orchi avvengono. Von Strab cerca di guadagnarsi una parte dalla loro, pensando che vinceranno. Pian piano scopriamo come va avanti. Voglio vedere però appunto i dialoghi e tutto il resto che si diranno per raccontarmelo. Finora, molto bene. Obiettivo dello scenario. Cattura tutte e tre gli eseguoni vittoria. Dove? Ah, 1, 2, 3. Fatemi guardare, sono curioso adesso di vedere cosa posso reclutare. Ah, 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 ah. Ah, posso comunque anche reclutare già gli ultramarine. Figo, figo. Che bello, squadra comando. Sono belli, eh. Mi piacciono molto i modelli. Mi piace che anche per i sergenti gli mettono l'estetica particolare. Per rappresentare che magari hanno equipaggiamenti migliori, più antichi. Che figo. Porca, possiamo già pure prendere un Land Raider. Bello. Che differenza c'è? Ah, perché i Blood Angels cos'è che ha? Ah, vabbè, perché hanno la compagnia della morte, immagino. Sì, infatti hanno due unità in più ed sono solo quelle. Normale o d'assalto. Figo. Mentre invece Legione d'Acciaio ha sbloccato qualcosa o no? Orca bestia! Abbiamo sbloccato i super pesanti, amici. Attenzione! Baneblade, Banehammer, Shadow Sword, Storm Sword. Stormlord, Stormblade, Bane Sword. Oh, oh, oh. E il Death Strike? C'è anche il Manticore? No, per adesso no. C'è solo il Death Strike. Dai, se c'è il Death Strike ci sarà anche il Manticore a un certo punto. Valkyrie e Vendetta. Oh, ma ragazzi, qua ho l'atto 2! Ci lanciamo! Ma ci lanciamo proprio, eh? Che roba! Ovvio. Non vuol dire che adesso andiamo tranquilli, eh? Perché comunque... Sicuro che ci sarà roba che competerà. Stormtel, uno Stormraven. Minchia, tutti i veicoli belli, 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 belli. Veicoli così. Il Lenspeeder, le moto. Giustamente. I Dreadnought. Che figo. Il Dreadnought è così in Mark IV. Mentre questo è il Dreadnought Furioso in Mark V. Figo. Ultramarine, vabbè, saranno più o meno gli stessi. Ah no, vabbè. Qualcosa di diverso ce l'hanno. Giustamente non hanno il Furioso, quindi hanno l'Hellfire. Bello. Carri invece dovrebbero essere sempre i soliti. Bello che ci sia pure il Lend Rider Helios. Che figo, che figo. Piace molto. Sì, giustamente non c'è qualcosina... E non parlo dei primaris ovviamente, ma intendo qualcosina che era comunque uscito un po' più recentemente, perché comunque, essendo del 2014. Non so se magari nei DLC potrebbero esserci comunque delle unità aggiuntive. Per questi capitoli. Essendo usciti magari un po' dopo. Non lo so. Non ricordo magari esattamente cosa sia uscito nel tempo. No, aspettate un attimo. Ma ragazzi, ma che bello! Hanno messo gli Space Marine Imperial... Gli Space Marine quelli degli Anniversario. Gli Imperial Space Marine. Quelli con l'estetica ispirata ai primissimi Space Marine degli anni Ottanta. Ma che bello che li hanno trasformati in unità. Ma che figo! No, io veramente, sto gioco mi emoziona. Mi piace davvero tantissimo. Perché la gente non conosce abbastanza questo gioco? Dovrebbero conoscerlo. Bello, bello, bello. Quanto son contento. Che mi perderei a guardare ste unità per millenni. Son proprio belli. Fai vedere invece negli Ultramarine come sono fatti. Ce l'avranno anche loro? Eh sì. Ma che bellini. Ma che figo. Non mi son perso nient'altro, vero? No, il resto l'ho visto. E anche il Damocles. Bello. L'Achilles. Bestia, che roba. Che roba bella. Oh. Adesso c'è molta indecisione, devo dire. Perché ho 3000 cose da cui scegliere. Però mi pianterei più su Space Marine. Non lo so, non lo so. A parte che adesso, vabbè, sono le 11 e mezza. Quindi adesso staccherai. Però ero davvero curiosissimo di vedere tutte queste unità. Perché no, che bello. Non vedo l'ora di provarle. Magnifico. Poi anche Taiko. Che bello. Che bello. Che ha giustamente proprio le sue armi, eh. Cioè, proprio specificate. Le armi digitali. E Bloodsong, la canzone del sangue, che è il suo fucile termico. Il suo combi termico. Che bella cosa. Stupendo. Spero a un certo punto poi di poter, effettivamente, usare Dante. Che bello. Ragazzi, ragazzi. Che enorme soddisfazione. Perché io sono davvero felicissimo di questi ultimi sviluppi. Yogri nei carri super pesanti sono comodi. Ma infatti proveremo. Adesso sicuramente nelle prossime live faremo un bel po' di prove belline. Assolutamente. Ragazzi. A questo punto io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche questa sera. Che begli sviluppi. Abbiamo finito l'atto 1. Che era quello più lungo. L'atto 2 e l'atto 3 sono un po' più corti. Però. Stiamo andando avanti. Con grandi soddisfazioni. Almeno da parte mia. A me sta piacendo molto. Devo dire che è proprio un bel gioco. È una piccola perla che le persone dovrebbero conoscere di più, secondo me. Detto questo. Detto questo. Noi ci vediamo domani sera. Per fare un altro episodio di giochi da singola serata. Proveremo Kill Team. Un vecchio gioco. A domani appunto Kill Team. Il team era un gioco che era uscito grazie alla vecchia THQ. Quindi infatti so che in copertina ad esempio aveva i corbi sanguinari. Non so se ha effettivamente dei collegamenti con Space Marine. O i giochi di Dawn of War. Non ho idea. Ma lo scopriremo domani. Vedremo se è un gioco interessante. È un gioco con qualche chicca carina da scoprire. Vedremo. Vi aspetto domani. Quindi vi auguro buona serata e buonanotte. A domani sera. Ciao ciao.